Nella seduta del Consiglio regionale del 31 gennaio è stata approvata a larga maggioranza 30 sì, un no e 4 non votanti la proposta di deliberazione numero 158 che ridefinisce l'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia Interregionale per la Gestione del Fiume Po. Il provvedimento il cui esame era iniziato nella seduta del 17 gennaio modifica l'ambito territoriale di competenza dell'Aipo come concordato nel 2008 tra l'Agenzia e gli enti che l'hanno istituita, le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si tratta di una razionalizzazione delle competenze, in pratica rimarrà all'Agenzia la gestione degli argini del fiume Po e dei principali affluenti, compresi i punti più critici rispetto alla messa in sicurezza del territorio durante le piene del più lungo fiume d'Italia, vero e proprio core business dell'Aipo. I corsi d'acqua secondari e più distanti dal Po saranno seguiti dalle strutture regionali dislocate nelle varie province.